Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per un camione in fiamme al chilometro 238 c'è il tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna, presenza di fumo tra Pian del Voglio e Roncobilaccio, infipillì rallentamenti tra la Strassigna e Genestra Fiorentina verso Livorno, sulla statale Trebbi Stiverina a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve Santo Stefano chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Balsavignone, info sui percorsi alternativi sui nostri canali social. Infine per i treni, circolazione temporaneamente sospesa sulla linea Firenze-Arezzo tra Montevarchi e Laterina, previsioni di ripristino della circolazione non prima di mezzogiorno. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie!